Da entrambi i versanti del Gran Sasso si alza una voce univoca che rimette al centro la delibera numero 953 approvata dalla Giunta regionale d'Abruzzo a fine 2023. Si tratta del documento con cui viene in pratica sancita la trasformazione del SIC del Gran Sasso, il sito di interesse comunitario, in zona speciale di conservazione. A prendere posizione sono le amministrazioni separate dei beni di uso civico dell'Aquilano e dell'Teramano. La trasformazione del SIC del Gran Sasso in AZSC, ossia il massimo livello di protezione ambientale, spiegano le associazioni, bloccherebbe non solo l'espansione turistica ma anche le attività di tipo zootecnico. Per questo le ASBUC dell'Aquilano e dell'Teramano fanno appello alla politica regionale. La richiesta è che la trasformazione del Gran Sasso in zona speciale di conservazione passi per una preliminare rimodulazione del sito di interesse comunitario e poi che le popolazioni che abitano i territori montani interessati dalla trasformazione siano effettivamente coinvolte nel processo amministrativo. Ad oggi la trasformazione del Gran Sasso da sito di interesse comunitario a zona speciale di conservazione interesserebbe una superficie pari a quasi 34.000 ettari.